Grazie a tutti. Direi che la ProSesto è sicuramente una piazza che ha una storia importante, mi hanno convinto sicuramente prima di tutto le persone, la società è una società molto ben strutturata come credo, non ce ne siano in questa categoria, con un progetto ben preciso, con delle idee molto chiare e di conseguenza direi che è stato molto facile accettare. L'ECO è un capitolo importante della mia vita da allenatore ed è un vicino passato che non posso dimenticare. Speriamo perlomeno di poter regalare ai nostri tifosi le soddisfazioni che la mia squadra è riuscita a dare all'ECO, per questo motivo abbiamo lavorato e questi sono gli intendimenti della società. Faremo di tutto per accontentare quelle che sono le attese e le aspettative. Cosa ci si aspetta? Una bella domanda. Sì, manca una settimana il primo impegno ufficiale della stagione a Coppa Italia a Caronno. Ci si aspetta di fare una buona prestazione ovviamente e cercare fin da subito di raccogliere i frutti del duro lavoro che abbiamo fatto in questo periodo di preparazione. L'obiettivo stagionale è sicuramente cercare di ottenere il massimo dalle nostre potenzialità e quello sicuramente di onorare la maglietta e soprattutto i colori di questa società gloriosa ogni giorno e ogni domenica. Sesto è una piazza molto importante e sono molto orgoglioso e fiero di essere il capitano quest'anno. Sicuramente un girone molto ostico con delle avversarie di grande valore. Nessuna partita sarà scontata perché è un campionato equilibratissimo, soprattutto il nostro girone. E quindi i verdetti sicuramente arriveranno nelle ultime giornate. L'importante è cercare di partire con il piede giusto. Sì, nuova avventura, sono molto contento perché mi sono subito trovato a mio agio. In un'altra realtà importante dove anche qua c'è un tifo molto caldo che si aspetta da tante cose. Ma per come sono fatto io sinceramente mi trovo meglio nelle piazze in cui c'è un'alta tensione dove devi dare tutto per essere ripagato e non devi giocare in punta di piedi sicuramente. Quindi sono un giocatore che ama giocare in un contesto dove il pubblico è caloroso. Ma i vecchi bene o male li conoscevo perché ormai è qualche anno che gioco anch'io quindi ho un buonissimo rapporto con loro e sono dei ottimi giocatori. Quanto riguarda i giovani qualcuno lo conoscevo di meno e sono molto contento perché hanno delle grandi qualità tecniche e speriamo che li possano far vedere bene sul campo. Quanto riguarda i giovani